Cristina Messa, Ministro dell'Università della Ricerca nel governo Draghi. Le do il benvenuto a Startup Italia Open Summit ed è davvero un piacere averla con noi in questa occasione. Per iniziare le vorrei domandare che ruolo ha oggi e qual è la sfida dell'Italia in questo scacchiere così globale interconnesso. Intanto grazie per questo invito e vado subito alla risposta. L'Italia ha un ruolo molto importante in questo periodo, l'ha sempre avuto ma ce l'ha in modo particolare adesso perché rappresenta per l'Europa la vera sfida. È lo Stato in Europa che ha avuto più fondi di tutti e che in seguito a questo deve riuscire a operare quelle riforme strutturali e quel lancio del mercato che si era un po' arenato negli ultimi anni. In questo senso non bastano le risorse che abbiamo, ovviamente dobbiamo anche agire su riforme di procedure che sono o antiche o troppo complesse, ci lamentiamo molto della burocrazia e dobbiamo soprattutto favorire l'imprenditorialità giovanile. Burocrazia spesso complessa, questo ha anche limitato sostanzialmente la crescita degli studenti, delle universitarie e dei dottorati. Oggi abbiamo appunto con il PNRR, abbiamo appunto i fondi per poter attrarre anche nuovi talenti e far rimanere i talenti italiani nel nostro paese. In questo senso come si sta lavorando nel suo ministero? Sicuramente è un obiettivo primario quello di portare giovani in Italia, che siano italiani o stranieri o ritorni dall'estero, però noi dobbiamo dare più opportunità. Quindi lavoriamo dal punto di vista delle opportunità, lavoro, formazione innovativa, accesso all'università più ampio, merito e riconoscimento del merito, questi sono tutti elementi attrattivi per i giovani. Dall'altro lavoriamo a creare anche le condizioni per un tipo di lavoro che è diverso rispetto a quello del passato. Quindi l'università non è strumento per definire i lavori, ma è sicuramente strumento per definire le competenze che poi serviranno ai lavori e in questo dobbiamo prima di tutto immaginare quali saranno questi lavori e secondo me l'aspetto dei giovani e ripeto della capacità di formare nuove imprese è molto rilevante. In che modo le università e anche le alleanze trasversali che si stanno creando? Penso ad esempio al Tech for Planet che vede coinvolti tra i Politecnici di Torino, Milano e Bari, ma anche alla coalizione delle università milanesi. Che tipo di accelerazione possono dare questi tipi di alleanze? Le università italiane sono tante, grandi, medie, piccole e ci viene rimproverato di averne troppe. In realtà se lavorano in rete non sono assolutamente troppe, ma creano valore. Se noi pensiamo alle università milanesi che lei ha detto e le mettiamo tutte insieme, scalerebbero qualsiasi ranking internazionale. Quindi è la forza e la complementarietà che possono determinare dei grandi cambiamenti e l'hanno capito. Noi in più le abbiamo stimolate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dove per una grossa parte dei fondi, quasi 6 miliardi di euro, chiediamo alle università di fare rete e di formare filiere. Quali opportunità possono nascere per gli spin-off universitari e le start-up? La maggior parte di questi fondi è dedicata a fare, come le dicevo, filiere di ricerca che vanno dalla ricerca al business, coinvolgendo il pubblico e il privato, le università, gli enti di ricerca e le imprese. E gli obiettivi di ciascuna di queste linee, che sono circa una trentina alla fine, sono quelli di formare start-up e spin-off. Quindi c'è proprio un investimento diretto su questo. Fra i risultati che ci proporranno le filiere di ricerca e business avrà molto peso la capacità di fare spin-off. Prima di salutarci, visto che stiamo appunto in un contesto di Startup Italia Open Summit in cui appunto ci ascoltano anche tante start-up e innovatori, quale messaggio darebbe a loro? Il messaggio è quello che per me gli innovatrici e gli innovatori sono al pari dei ricercatori e ricercatrici. Quindi forza, spero che vengano anche in massa a lavorare per i nostri studenti negli Atenei e di non pensare a fallimenti ma di andare avanti nella vita. Grazie Ministro. Grazie. Grazie.